Benvenuti a Cagliari News, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sul calcio. Assicuratevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti la Cagliari. La formazione allenata da Claudio Ranieri nonostante le grandi difficoltà sta provando a riorganizzarsi su delle basi più salde. Per questo motivo il tecnico del Cagliari ha deciso di puntare sul giovanissimo mediano ex Palmatteo Prati. Il talentuoso classe 2003 è diventato fin da subito lidatore delle sortite offensive rosso-blu, il tutto anche se ciò non è stato chiaro nell'immediato contro la Roma la Unipoldomus. Il giocatore della nazionale italiana U21, riporta oggi l'Unione Sarda, può diventare colui che detta i tempi nella squadra dell'esperto tecnico capitolino. Le sue capacità del gioco in verticale possono liberare di alcuni gravosi compiti di impostazione tanto Antoine Macombou quanto Ibrahim Suleymane. Inoltre con un 3-5-2 costruito attorno a lui possono cambiare le geometrie degli isolani, i quali senza il 19enne di Ravenna hanno dimostrato di peccare d'equilibrio. Insomma, ora starà a lui dimostrare di poter essere il fulcro di una squadra che puntare a rimanere nel campionato di Serie A. Ciao tifoso rosso-blu, pensi che Prati debba essere titolare? Lascia la tua opinione nei commenti, poiché è molto importante per il Cagliari.